Siamo giunti alla sesta edizione quest'anno, il tema di Gemellarte è Armonie. Armonie perché l'arte non può rimanere indifferente a tutto quello che sta accadendo. Gemellarte ha sempre dialogato con temi molto importanti per l'umanità. Abbiamo parlato di superamento dei confini, abbiamo parlato di rivoluzione, abbiamo parlato di rinascita, abbiamo parlato di nuovi orizzonti, di gioia, quest'anno di Armonia, perché è l'armonia forse quella di cui più ha bisogno questo caos globale. La parete dedicata al muro di quest'anno si trova in una scuola e quindi Armonia acquista ancora più valore perché il muro sarà dedicato in primis ai più piccoli, ai bambini, perché loro proprio sono quelli che hanno bisogno di Armonia più di tutti. La call è già partita, si è conclusa il 30 di settembre, a breve potremo nominare il vincitore, sia per Terni che per Sant'Oan. Il muro sarà inaugurato il 2 novembre e l'artista lavorerà dal 22 di ottobre al 1 novembre. Siamo veramente felici di essere ancora qua e di portare avanti questo dialogo attraverso l'arte contemporanea sui muri dedicato a tutti quanti. Qual è la scuola scelta? La scuola scelta è la Cesare Battisti, quindi il muro è ben visibile a tutti, adiacente al centro.